Filippo è frizzato solo per voi Vediamo chi c'è Ah tutto qua? Ma ce l'hanno detto un po' di boni? Eh ma l'hanno detto però Età 20, 25, 30, 2 metri Ah Filippo Renardone Ah Buonasera Bene Ma siete sicuri? Siamo sicuri e come è proprio lui Ma scherzava non ardi Dai scherziamo Stiamo scherzando Ciao Finalmente si può baciare qualcuno No ciao 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 piacere Com'è? Stiamo scherzando Entrino anche gli altri Vipponi Raggiungete i vostri amici Le vostre amiche E fate amicizia Con Filippo Nardi Nuovo concorrente Del grande fratello Biff Grazie a tutti Grazie a tutti Per me Grazie a tutti